Dopo la causa in tribunale per riprendere il possesso di Muschio Selvaggio vinta da Luis quest'ultimo va a mandare la primissima frecciatina nei confronti di Fedez dato che fino ad ora non si era mai espresso al riguardo frecciatina che fra l'altro hanno anche capito in pochi perché andava un attimo interpretata infatti Luis esordisce con una story sponsorizzando un video che uscirà breve sul suo canale per poi mettere nella story dopo lo screen del suo canale principale ovvero Luis con scritto questo come a dire anche Muschio Selvaggio ormai un mio canale ma il video uscirà su quest'altro e quindi con questa gag un po' ironica Luis per la prima volta si va a esprimere riguardo la sua vittoria dalla causa legale di Muschio Selvaggio stiamo a vedere ora cosa succederà noi ci vediamo un prossimo video in linea o studio